Sì, Lucia è una delle feste natalizie perché Natale è una festa che già la sentiamo con Santa Lucia ogni anno. Questa luce, lo stesso nome Lucia lo dice, è quello che attendiamo con il Natale. Lucia anzi serve a prepararci al Santo Natale perché ci ricorda che la vita se è fatta di Vangelo, se è fatta con l'altro e per l'altro diventa luminosa, diventa espressione bella di vita. Quindi Natale ben venga a prepararlo con Lucia. La luce di Lucia diciamo è la luce di Cristo perché ogni santo, santa sono riflesso di Cristo. Ho detto nella messa che Lucia quest'anno ci serve per ricordarci dei femminicidi, essendo anche lei stata vittima di femminicidi. Lo leggiamo dal punto di vista storico, Lucia è stata ammazzata, uccisa proprio perché il suo futuro sposo a tutti i costi la voleva sposa, a lei non volle perché la libertà della persona è sacrosanta. Quindi credo che sia questo il messaggio più bello, più luminoso che attraverso Lucia riceviamo e dobbiamo fare nostro. Questa reliquia diciamo che esiste da sempre, solo che non era mai stata usata durante la festa. Sì, 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 io per caso con le mie ricerche l'ho trovata e poi nel 2021 ho creato un reliquario che non c'era, che la contiene, attraverso questo reliquario la si espone, la si usa per i riti di benedizione. Contiene un frammento osseo di Santa Lucia che si pensa provenga da Siracusa, visto che c'erano le gambe molto strette tra Marsala e Siracusa nei tempi addietro.